ora vado a leggere un messaggio della madonnina che ha dato a magiugorie il 25 novembre 2019 guarda finalmente c'ho la mia felpa con logo adesso ascolta attentamente questo messaggio della madonnina ascoltiamo anzi ascolto anche io cari figli questo tempo sia per voi il tempo della preghiera senza dio non avete la pace perciò figlioli pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché gesù possa nascere in voi e darvi il suo amore e la sua benedizione il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio di gelosia figlioli l'inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a gesù di nascere nella vostra vita cercatelo pregate e lui si donerà a voi nel bambino che è gioia e pace io sono con voi e prego per voi grazie per aver risposto alla mia chiamata e questo è il messaggio che ha dato la madonnina a maria il 25 novembre 2019 ed ora leggo questo santino della madonnina guarda un santo viandante gli apparsa la madonnina a maronna accompagna guarda un po' o maria madre nostra e madre del buon cammino a te affidiamo la nostra vita mentre siamo in pellegrinaggio per raggiungere la meta che è l'incontro con dio tu vergine santissima che hai generato colui che è la via della carità e della giustizia porgi la tua mano materna a quanti si sono smarriti nel cammino della vita e sono stanchi ed affaticati benedici la nostra chiesa che ti ama e soprattutto i giovani le famiglie i sofferenti i poveri e gli immaginati la stella del mattino che brilla sul tuo capo ci accompagni sempre e ci protegga a maronna accompagna amen ed ora il santo rosario immancabilmente anche oggi questa giornata del 29 di novembre 2019 venerdì 29 novembre noi meditiamo i misteri del dolore di fuori fa 20 gradi esterni è una calma apparente c'è un po' di fratello vento ma io mi trovo dentro la macchina perché ho da fare tanti giri e appena ho fatto finisco da svolgere i miei compiti giornalieri non posso andare quindi da nessuna parte a registrare a fare la produzione video solo in macchina quindi niente non è invocamo lo spirito santo che agisca sopra di noi e su di noi sopra che ci riempa di uno di uno scudo invincibile di protezione e dentro di noi che ci illumini di luce quella luce di 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 guarigione e liberazione perché tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti donaci allora Gesù questo spirito di guarigione e liberazione liberaci dal demonio causa origine di ogni male appelliamoci all'intercessione potente di San Michele Arcangelo San Michele Arcangelo liberaci dalle tentazioni demoniache infernali dagli attacchi infernali per intercessione dei santi e sante del paradiso e di mamma Maria e di San Michele Arcangelo vieni santo spirito manda noi dal cielo il raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore di tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia dalla terra chiediamo a Gesù che con questo rosario ci venga a liberare da ogni male e da ogni tenebra che ci opprime da ogni malattia fisica spirituale psicologica e psicofisica vieni a liberarci Gesù vieni a guarirci Gesù vieni a proteggerci Gesù vieni a purificarci Gesù nel nome del padre del figlio dello spirito santo un bacio a Gesù Gesù si nella mia mente Gesù si nelle mie labbra Gesù si nel mio cuore amen diciamo il padre nostro dieci ave maria padre nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Ame. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la fragellazione di Gesù alla colonna. Tanto meditiamo i misteri del dolore. La fragellazione di Gesù alla colonna. Gesù fragellato per noi, per edimerci dal peccato. condannato a morte per salvarci. Grazie Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti. Come noi le rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte ame. Ave Maria piena di grazia al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto al frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte ame. Ave Maria Piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria, piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori Adesso nell'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come erano nel principio e sempre in secoli e secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà Come il cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimetta a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori E non ci indore in tentazione ma liberaci dal male, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo sieno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo sieno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave Maria piena di grazia al Signore con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo sieno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio Ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero Nel quarto mistero del dolore Si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce Chiediamo a Gesù che ci liberi da ogni malattia fisica Psichica e spirituale Chiediamolo a Gesù incessantemente Gesù ripara la mia vita Gesù, vieni Vieni ad illuminare la mia vita A risanarla A donare la salute Vieni a donare la salute alla mia vita, Gesù Gesù Ti chiediamo questa grazia Ti chiedo questa grazia Scendi col tuo Santo Spirito di guarigione e liberazione Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così intera Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti Come noi le rimettiamo i nostri debitori Non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male e ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e sempre nei secoli e secoli, ame Gesù perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria regina della pace, prega per noi e per il mondo intero Nel quinto ed ultimo mistero del dolore Si contempla Gesù muore in croce Dopodiché Gesù muore in croce E ci libera dalla morte Perché ha sconfitto la morte La morte Non ha avuto potere su di Lui Quindi chi ci può salvare all'infuori di Gesù? Solo Gesù Non c'è un'altra salvezza all'infuori di Lui Solo a Gesù Ci possiamo affidare e confidare Solo Gesù Padre nostro che sei nei cieli Si è santificato il tuo nome Venga il tuo regno Si è fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimette a noi i nostri debiti Come noi le rimettiamo i nostri debitori E non ci indurre in tentazione Ma ribarci dal male Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Ave Maria piena di grazie al Signore Con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte e ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come erano in principio e sempre in secoli e secoli. Ame. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricoriamo noi esuli figli di Eva. A te sospriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolcevergine Maria. Adesso un Padre nostro, non ame Maria, un gloria al Padre, per le intenzioni della Madonnina. E se noi abbiamo chiesto qualcosa a Gesù tramite la Madonnina, anche per le nostre intenzioni. E cioè la guarigione del nostro corpo, della nostra anima, della nostra psiche e dei nostri cari. Padre nostro, che sei in i cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma ribarsi dal male, ame. Ave Maria, piena di grazie al Signore, con te tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli e secoli, ame. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regine della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, aspiri in pace con voi l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, fate che il mio ultimo cibo sia la santa carestia. San Michele, difendici, San Gabriele, fortificaci, San Raffaele, guariscici da ogni male. Angeli e santi tutti, in particolare angeli nostri custodi, pregate per noi. San Giuseppe, Padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria, prega per noi e per i moribondi. Sangue preziosissimo di Gesù, estingui le fiamme del purgatorio. Animo e santa del purgatorio, pregate per noi. Adesso per i nostri cari defunti, io ci metto anche zio Isidoro, zio Alberto, Irneo, Talila, zio Mario, zio Lino, nonno Basilio, nonno Pacifico, Montesi, nonna Pierina, nonna Anna e tutti i miei cari defunti. Tu dirai i tuoi cari defunti. Eterno riposo don al loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Eterno riposo don al loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Eterno riposo don al loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. e la benedizione tua Gesù per intercessione di Santa Maria Madre, Madre Immacolata, Concezione per intercessione di Sant'Antonio di Padova, il mio santo protettore, e per intercessione di San Michele Arcangelo, la benedizione di Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre, Amen. Che è il nome del Padre e del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, Amen. Mi trovo qui nella Exe Inzo, la fabbrica che ci ha lavorato, zio Lino, buonanima, per 35 anni. Eterno riposo don al zio Lino, Signore, risprende a lui la luce perpetua, riposi in pace, Amen. Eterno riposo don al zio Lino, Signore, risprende a lui la luce perpetua, riposi in pace, Amen. Eterno riposo don al zio Lino, Signore, risprende a lui la luce perpetua, riposi in pace, Amen. Ti saluto, ciao!